Il seminario di oggi riguarda l'accessibilità nei siti museali e negli istituti di cultura delle biblioteche. Quindi la relazione che sta spiegando in questo momento il professore verte proprio sulle soluzioni molto più semplici proposte addirittura dai bambini. Quindi a volte ci si rende conto che dei problemi importantissimi di accessibilità negli istituti di cultura possono essere risolti nei modi più semplici quando sono proposte da bambini. Oggi è la giornata in cui daremo anche come provincia di Salerno, quindi come settore museo e biblioteca, gli attestati a tutti coloro che hanno frequentato il corso per bibliotecari, quindi in biblioteconomia, per il tramutamento dei dati da SEBIN e NESBN. Quindi i partecipanti sono 30 biblioteche della provincia di Salerno e oggi verrà rilasciato loro l'attestato di frequenza di 100 ore di formazione effettuato presso la biblioteca provinciale di Salerno. Buongiorno, sono Anna Maria Vitale, il presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche per la sezione Campania. Oggi stiamo conducendo con la provincia di Salerno un seminario molto importante sui temi dell'accessibilità universale nelle nostre strutture culturali, nei musei, nelle biblioteche e negli archivi. Il tema affronta non solo di speciali categorie di utenti, ma in realtà di tutta la cittadinanza, che spesso, pensiamo ad esempio alle famiglie con bambini e con passeggini a seguito, può avere difficoltà a fruire il patrimonio culturale italiano. Il tema è stato affrontato grazie all'interessamento dell'assessorato alla cultura della provincia di Salerno e alla direzione del settore musei e biblioteche dell'ente e con l'augurio di attivare una serie di laboratori pratici che possano portare i nostri operatori culturali, bibliotecari, archivisti e operatori museali a creare delle vere e proprie mappe sensoriali, dei veri e propri percorsi di accessibilità a queste strutture e soprattutto possano costituire un volano di economia per il nostro territorio e opportunità lavorative per i giovani che ci seguono e che stanno apprendendo le competenze tecniche del settore. Buongiorno, sono Viviana Damiano, sono una dei referenti dell'Associazione Culturale Vivi Quartiere Napoli che sta organizzato in partenariato con la provincia di Salerno e con l'AIB Sezione Campania la giornata di oggi. L'accessibilità organizzata e gestita dall'Associazione Vivi Quartiere riguarda proprio l'accessibilità territoriale, l'accessibilità nei musei e in questo caso anche nelle biblioteche creando un collegamento tra il professore Angelaccio e la campagna per la realizzazione di realtà sensoriali accessibili a tutti a differenza delle precedenti realtà che creavano un dislivello tra i comunemente abili e quelli chiamati con la normativa attuale appunto diversamente abili. Speriamo che la giornata porti i suoi frutti e siamo veramente contenti e onorati di essere partner organizzativo della giornata.